Popolo Nero Azzurro, bentornati in questo nuovo video che è dove si renda necessario parlare di quello che è successo ieri con le comunicazioni da parte di Zhang per quanto riguarda il discorso OCTRI, ma secondo me è chiaramente affrontato. Non l'ho fatto prima ragazzi perché adesso vengo da tre giorni di un'influenza allucinante, stamattina sto un po' meglio, infatti vi dico subito ragazzi che non farò la live reaction di Interlazio oggi, sto veramente poco bene, quindi con le poche forze che ho in questo momento ho recuperato anche la voce perché ero senza voce. Andiamo un po' a parlare di quello che è successo nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri. Zhang fa questa lettera dove appunto parla del discorso OCTRI. Prima appunto che mi permetto di fare, le tempistiche secondo me non sono state il massimo, nel senso se veramente si è arrivati agli sgoccioli di questo discorso del rifinanziamento, del debito che Zhang deve a OCTRI, quindi sarebbe potuto essere il caso di aspettare la partita di oggi e iniziare a parlare da lunedì, tanto un giorno più, un giorno meno cosa cambiava. avrebbe dato sicuramente un'importanza, diciamo, diversa, visto che comunque l'Inter oggi alzerà la Coppa dello Scudetto. Si è chiaro, a noi tifosi questa cosa cambia poco, nel senso che eravamo contenti prima, siamo stracontenti adesso di quello del percorso che ha fatto l'Inter, quindi a noi questa notizia, dal punto di vista, diciamo così, delle emozioni, di cosa proveremo oggi nel vedere l'Inter alzare la Coppa del campionato, non cambia nulla, si è chiaro. Però avrebbe potuto tranquillamente aspettare, visto che la Lazio verrà qui a giocare una partita col sangue agli occhi, una partita che per loro è molto importante, è invece per noi una passerella, quindi sarebbe il caso anche magari di non perdere questa partita, ma comunque. Il discorso OCTRI, allora, partiamo dal presupposto che comunque andrà a finire questa situazione, per l'Inter società cambia poco o nulla. Ovvero, se l'Inter dovesse passare nel mining di OCTRI, non succederà esattamente quello che è successo a quegli altri anni fa. OCTRI non aveva i soldi per restituire il prestito fatto a Elliot e Elliot si è preso il mila. E OCTRI farà esattamente la stessa identica cosa, con la differenza che però OCTRI non ha intenzione di tenere l'Inter per tanto tempo. Si parla già di un compratore ed è lì che secondo me OCTRI sta annusando l'affare. Ovvero, nel dire io ho questa possibilità di prendere una società a 400 milioni di euro, perché più o meno è questa la cifra, 350, 380 milioni di euro, e questa è la cifra che Zhang deve a OCTRI, posso prenderla veramente a meno della metà del suo valore, e posso sicuramente farci un'enorme plusvalenza, perché si parla comunque che l'Inter indubbiamente viene valutata tra il miliardo e il miliardo e due. Questa era più o meno la stima che aveva fatto Zhang quando si era parlato dei primi compratori. E' molto probabile che se OCTRI va, tra virgolette, allo scontro perché vuole portarsi a casa l'Inter, è evidente che alle spalle ha già un compratore molto interessato. E se anche non dovesse vendere al miliardo, ma dovesse vendere all'intorno agli 800-900 milioni, OCTRI farebbe comunque una plusvalenza di 400-500 milioni di euro. Quindi comunque loro ci guadagnano, perché la prendono praticamente esattamente come Elliot prese il mila a 300 milioni di euro, mi parla una roba del genere. E capite benissimo che è ovvio dal punto di vista puramente finanziario. Quanto io, a differenza di tutti questi soloni che stanno uscendo dal web, gente che fa fatica a parlare in italiano, a gente che fa fatica a scrivere in italiano, magicamente sono tutti diventati super economisti, super esperti di alta finanza. Mi ricordo un po' come quando nel 2006 erano tutti avvocati, quando si parlava del Juventus in Serie B, magicamente erano tutti avvocati e della gente che probabilmente aveva fatto fatica a finire le scuole dell'obbligo. Ma detto questo, l'Inter società cambia poco, perché se veramente, anzi, potrebbe addirittura cambiare in meglio se l'Inter dovesse passare veramente da Zhang a OCTRI, perché innanzitutto passerebbe in mano a un fondo che ha possibilità economiche. Quindi comunque garantirebbe la continuità, a differenza di quello che ha detto Zhang. Chiaramente Zhang ha usato dei termini un po' pesanti, secondo me, per aizzare un po' la folla, come posso dire, accendere un po' il fuoco della polemica. Ma l'Inter, dal punto di vista organizzativo, non rischia nulla. Quale investitore compra un'azienda e la mette poi sull'astrico, non lo farebbe nessuno, non avrebbe senso. Tanto ripeto che OCTRI, secondo me, proprio perché l'Inter ha visto che con fondi limitatissimi è riuscita in questi anni a creare una squadra fortissima, è ovvio che non ha nessun interesse a depoperare il parco giocatori o anche gli stessi dirigenti dell'Inter, il parco tecnico dell'Inter, non ha nessun interesse. Quindi certo, i discorsi dei vari rinnovi si possono allungare per quanto riguarda i tempi, questo mi sembra evidente. Però non vedo grosse problematiche. La problematica sarebbe se ovviamente Zhang, perché si parla di lunedì, ma dicono che lunedì nel Lussemburgo è festa, quindi slitta già di un giorno al 21, se veramente il 21 Zhang non sarà più proprietario dell'Inter, il discorso secondo me può allungarsi e di sì potrebbe l'Inter avere delle problematiche, perché non credo che Zhang perderà l'Inter così, a cuor leggero. Sicuramente si proverà a farsi valere da qualche parte, insomma in qualche tribunale, a dirare le vie legali. Quindi questo sì potrebbe eventualmente allungare le tempistiche per quanto riguarda l'Inter. magari nuovi acquisti o altro, questo sì è l'unica vera problematica che io mi sento di segnalare, perché dal punto di vista diciamo così della stabilità l'Inter non avrà nessun problema ragazzi, non ascoltate le minchiate che vi dicono. l'unica, io vi invito sinceramente ad ascoltare l'unico come giornalista che quando si parla di questioni finanziarie legate al calcio ha sicuramente un peso importante nelle notizie ed è l'unico per quanto mi riguarda affidabile, ed è Marco Bellinazzo. Quindi vi invito se non lo conoscete a cercarlo sui vari social, Marco Bellinazzo è un giornalista che si occupa di finanza nel mondo del calcio e quando lui oggi ha rilanciato la notizia che con Pinco c'erano delle problematiche, io ho iniziato ad alzare le antenne perché ripeto se lo dice lui ci sono reali problemi. Quindi vedremo cosa succederà, ora io non credo che nel giro di una notte o 48 ore si possa arrivare a una soluzione con Pinco, a meno che Zhang veramente non pudi tenersi l'Inter, non arrivi a, che ne so, a scegliere di serie nei vari contratti, il clausolo è per lui diciamo così poco vantaggioso, non lo so. Io ripeto, a differenza di tutti questi soloni che stanno parlando in queste ore a godere di costruzione all'interno, io inviterei per esempio i tifosi milanini a guardare cosa ha fatto il Milan che ieri ha preso altre tre pere, quindi hanno ben altri problemi, stanno prendendo Fonseca ma non quello, stanno prendendo Fonseca quello che fa le ciabatte. Quindi il loro livello è questo, quegli altri hanno appena mandato via un allenatore, non sanno neanche chi sarà allenato nel prossimo anno, quindi io inviterei tutti quelli che in questo momento stanno come i corvi e stanno volando sul possibile cadavere dell'Inter. Ragazzi, se l'Inter fino ad ora, senza soldi, vi ha messo le palle in testa, figuratevi cosa può fare se passa Oktri, Oktri la vende a, quello che si legge, a qualche ricca famiglia saudita, voi dovete pregare che l'Inter rimanga nelle mani di Zhang, perché se l'Inter poco poco passa nelle mani di un imprenditore, di qualche famiglia saudita che ha veramente possibilità economiche importanti e non ha nessun vincolo dal punto di vista di investimenti, io posso in voi iniziare a piangere, quindi voi pregate che l'Inter resti nelle mani di Zhang, perché se finora in questi anni, da conto in poi, l'Inter ha dovuto stare attento anche a spendere i soldi per comprare le bicche in sede e nonostante tutto ha fatto una squadra che in Italia ha vinto tutto e vi ha messo le palle in testa, fate attenzione cosa può succedere se, diciamo, non si hanno più tutte queste problematiche, quindi attenzione perché Oktri, da quello che si legge, è molto contento e come potrebbe essere diversamente per quanto riguarda il management dell'Inter, di quello che hanno fatto Marotta, Ausilio, Baccini, per quanto riguarda la parte tecnica, quello che ha fatto Antonello, per quanto riguarda la parte, diciamo così, finanziaria, quindi capite bene che l'Inter società, che è quello che a noi interessa, non rischia nulla. L'Inter in questi anni ha creato un modello di sostenibilità che l'anno prossimo, addirittura da quello che si legge, andrà leggermente inattivo, quindi capite bene che tutto quello che sta andando le regioni in questo momento, fidatevi ragazzi, non c'è nulla da preoccuparsi, nulla. Quindi l'Inter è una cosa, le problematiche di Zhang sono un'altra. Zhang ha fatto quello che ha fatto a nome suo e ha dato l'Inter come garanzia, come si fa quando qualcuno di noi compra un bene importante e dà qualcosa in garanzia. Quindi se l'Inter passerà, come potrebbe succedere? Perché ragazzi, prendiamoci chiaro, le tempistiche sono ristrettissime, non è che c'è tanto tempo. Quindi al momento, se c'è da dare una quota, io penso che l'Inter potrebbe veramente passare nelle MyDoc3 da qui a X giorni, vedremo cosa succederà. Io non credo che Oc3 si siederà, se veramente come si legge, se veramente come si legge, alle spalle, hanno già un compratore pronto a subentrare. Io non credo che loro scenderanno a compromessi o scenderanno a trattare ancora con Zhang. Ora, io non so, io leggo come vuoi, ripeto a differenza, lo ripeto per la terza volta, a differenza di questi Soloni che fanno fatica a parlare in italiano e a scrivere in italiano. Non ho queste fonti così certe per quanto riguarda il discorso finanziario. Io sono un appassionato di calcio a livello tecnico, a livello di giocatore, a livello di allenatori. Tutto ciò che è alta finanza, io alzo le mani, leggo, mi informo, come fanno molti di voi, ma da qui a dare sentenze certe, no. L'unica cosa che mi sento da quello che ho letto, che mi sento di dire, è che l'Inter non rischia niente. L'Inter non ha nessun problema da quel punto di vista. Cambierà semplicemente il proprietario. E bisogna capire se questo sarà un passaggio di consegne, diciamo, tranquillo, passatemi il termine, o come credo io, Zhang, non si metta, non si farà da parte in maniera tanto facilmente. Quindi bisogna capire poi lì cosa succederà. E lì, tutto lì, il problema. Vediamo, insomma, vediamo in questi giorni cosa succederà. Detto questo, ragazzi, godiamoci la festa Scudetto, perché comunque l'Inter resta a campioni d'Italia, dell'Inter sta già programmato per il prossimo anno. Quindi, come ho detto, tutti quelli che in questo momento ballano sul possibile cadavere dell'Inter, ballavano già quando andò via Conte, tre anni fa, e poi gli abbiamo messo, non le palle in testa, le palle in faccia per gli anni a seguire. Quindi, tranquilli, pensiamo a goderci la vittoria di questo campionato. Finalmente, alzeremo la coppa del ventesimo Scudetto. Per il resto, poi, ragazzi, c'è tempo. Partiamo dal presupposto, come ho detto subito all'inizio del video, che l'unica problematica che può venire fuori è il discorso se Zhang o meno troverà un accordo pacifico con Octree o meno. Detto questo, ragazzi, era giusto che anch'io, nonostante non sia in forma, ma, come ho detto, vengo da tre giorni di influenza abbastanza tosta. Quindi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io, ripeto, ho detto la mia, da appassionato di calcio e non da finto intenditore e conoscitore dell'alta finanza, come fanno molti che, ripeto, fanno fatica anche a parlare in italiano. Detto questo, ci vediamo sicuramente per il post-partita di Inter-Lazio. Come ho detto, non farò la live reaction, ragazzi, perché non sono in forma. Quindi, per esempio, guardarmela, diciamo, tranquillo e poi parlare della partita dopo e poi sicuramente nei giorni a venire continueremo con questo discorso inerente alla proprietà dell'Inter. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona domenica, ma prima di farlo, come sempre, forza, forza, forza Inter!